secondo me ad oggi non esiste una vera differenza tra prodotto e servizio perché in entrambi i casi le due cose si commistionano il prodotto stesso di per sé non è più solamente un prodotto che viene fatto finito e consegnato ma un qualcosa che viene costruito in itinere ascoltando le voci di chi può effettivamente lo consuma